Il primo Dark Souls l'ho finito, il secondo no, non ancora, perché devo ricominciare e non ho scazzo, perché ho perso il mio salvataggio Allora Wait, what? Oh merda, è vero, è trash, ho contro Zed Oh no, contro Lu... Oh no! Lulutop! Oh mio Dio, no Lulutop! Oh no! 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 Ok! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! What's the same ? Oh no! Oh no! La cosa è che devo In pratica in questo match up Devo Primo tra tutte le cose Devo stare attento alla Rass Secondo Devo Avendo le Knight devo riuscire a vincere un trade E Per forza E devo o mandarla in base Oppure Ucciderla Più che altro dovrei ucciderla Perché se non riesco a ucciderla Praticamente le prendo solo il teleport Quindi non è una gran cosa 21 di armor 30 di magic resist 597 card Anche il Doransh Anche il Doransh Poteva partire Secondo Spero che sbloccherò Lassare la Q Forse avrei dovuto sbloccare la Q Già dal livello 1 Oh È andata molto di lusso Non sono assolutamente I livelli di risuos Con i Rearie però Oh mio dio Oh mio dio Non riesco neanche a uccidere Un minion con la Q Fucking real Uff Adesso lui ha un leggerissimo vantaggio di esperienza Se uccide altri Un altro paio di minion Dalle wave E che cazzo Eh sono morto Nellissin era top Porco Cristo Eh merda Fortuna non ha cold Mi sta per drivare Dessin Eh Grazie Ah vabbè Chio merda Lissini nel bus Non me lo aspettavo proprio E adesso è una merda Perché lei ha un totale vantaggio Avendomi negato una marea di minion Ha un totale vantaggio Avrà sempre il vantaggio di livelli E se mi avvicino Ora la fanno Considerando che lei è Wuz Può inseguirmi a morte Quindi Esatto Guarda 300 HP partiti Con una Q e una E Bello Ah Che bello Sto provando ad andare aggressivo Su di lei Per farle un pochino di paura Minima 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 Madonna Che bello Ma fa culo Fottuta Lulu di merda Ok La cosa qua È stata estremamente rischiosa Da fare Ma avevo visto Che non aveva Non aveva sufficiente mana Per fare Anche il polymorph Quindi non aveva modo Per bloccarmi Dal fare quell'azione Porco Zeus Che pelo Porca puttana Comunque Dicevo Il motivo per cui Io sono nato all'in È che Sapevo che non aveva Sufficiente mana Per il polymorph E quindi sarei riuscito A uccidere Al massimo Sarei morto Anche io Contemporaneamente Mi è nata molto Di lusso Che Avevo abbastanza Danno Per Ucciderla Lulù Lulù è ancora Il leggero vantaggio Di farm Però io ho il vantaggio Nella kill Lei ha avuto un assist Quindi il buono M**chia Che rischio L'ho preso 3,59 Vuol dire Che ha 8,59 Di nuovo Il flash Lulù True will Cannot Bebe It Ends Here There's no Turning back Non so perché Non si è andato Lo stunno Va bene Oh no Mid Ok Sto sopravvalutando I miei danni Non si è andato Ghi Ok Non avevo abbastanza mana per fare la ultima Zulu Quindi Potevo andare all in Quella Minchia che pelo Allora In questo caso voglio maxare la Q per barstarla più velocemente Vai vai Ulti di qua ulti di qua ulti di qua Bravissimo Lalalalalalalalal Ho dovuto piazzare una mia guarda ma è stato totalmente worth visto che ho preso Ora prendo lo Sheen che mi renderà ancora più facile uccidere Zulu Buono Il motivo per cui non ho pushato in early con la ultimate Prima con la ultimate di Oirelia Semplicemente perché volevo mantenere il mio mana Nel caso in cui succedesse una cosa come abbiamo appena previsto adesso Oh merda Ho 10 secondi alla ultimate Mi sa che spezzerò quella Ho 10 secondi alla prossima Faffanculo! Oh oh! Ok, devo andarmene! Oh mio dio! Minchia! No, allora la E maxata serve nel caso in cui ti trovi contro un champion che devi inseguire e che è difficile da uccidere molto velocemente. Contro Lulu, che è molto facile da uccidere essendo molto squishy, preferisco maxare Raku. Almeno secondo me è meglio. Poi magari ho sbagliato, ho torto io, non lo so. Giallicin che sta arrivando top. Non posso rimanere, non posso divearla. Eccolo là di nuovo, buonissimo. Vediamo se è tonta. LOL! Stavano ad aspettare la blu, mi sa. Non è proprio un genio sta Lulu, però. Oh cavolo, è già tornata. Il motivo per cui ho scelto di andare per i berserker è sempre il semplice fatto che voglio avere una maggiore probabilità di... Una maggiore quantità di attack speed. Allora... Sta Lulu con il teleport e il suo vantaggio è che può pushare tranquillamente la torre top. Se fosse un po' a dissimo. È vero. Oggi si vittura... Zora da andare. Non ci sforzi. Eh, diecchi, non ci sforziamo. Ecco, si vittura, non ci sforziamo. Non ci sforziamo. Aspettiamo i cooldown Non ha mana, posso dievarla tranquillamente Ora non ha il teleport quindi posso prendere tranquillamente la torre Però prima ammazzi i minion Così i miei minion non sprecchieranno Oh oh, sono morto 100% Sì Basta che faccio una air Ah, ok, no flashless in No flashless in, è worth, è worth, è worth È worth Ah, merda, ho preso la torre top Devo prendermi la torre top e andare a... Ioni shall not fall Ora ti voglio pushar Ah, c'è ancora Lulu qua Sto cassa di neppazzo Minchia, quello là è squishy a merda Buono Ho aiutato Cassadin, si è preso una free kill Questo lo rimette un po' in piedi Considerando che sta avendo problemi contro Zed Bene Bene Non ho abbastanza mano io a sto giro Quattro No Ho Quattro Forza Ah non ho abbastanza vita No me ne vado becco 2340 gold No me ne vado Oh mio dio Che palle Non se ne andrà mai Da stare in blue C'è disegno Nol Buono La cosa che ho fatto là Era semplicemente aspettare Il cooldown della mia W Mancavano due secondi E visto che avevo perso più vita Di quante ne aveva persa Lulu Sapevo che avevo uno stun garantito E quindi era una facile kill 2280 Mi dispiace qua devo lasciarti cosa C'è Mi dispiace qua devo lasciarti cosa C'è la nostra bottom lane il problema No Aspetta cosa Avendo la flasca Tanto non mi serve più Oh mio dio Cosa Con la Morgana Ha face stancato Ma è morta È morta Lulu da 05 a 2 5 con un fight E ha preso tipo una marea infinita di soldi Perché aveva preso due shutdown Quella red buff pure Buonotte Dobbiamo prenderci quella Ma è morta Cosa Che No Ho No 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 Vorrando in vado a prendermelo Adesso la cosa che ci serve la torre, per forza ci serve la torre mid se vogliamo vincerla Lo zed è pazzo La torre, la torre, la torre, la torre La torre, la torre, la torre, la torre E vabbè Corchie è iperfiddato, è ridicolo Eh, Corchie è abbastanza grande Forza, 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 cassa, non ce la puoi fare Bravo Sì, non passare però di fronte mio così che sa dove sei Pazzo, è un pazzo questo qua Ok, no, mi serve la botte Non posso sopravvivere a Corchie senza lifesteal Zed non ha problemi DC non ha problemi, lui non ha problemi Ma Corchie mi serve lifesteal per poter batterlo Per poterlo battere E' la UFO Corchie questa skin Non 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 F***ing lullo No, non posso Porca puttana Quella engage Per fortuna via ha fatto quel knock up Così che siamo potuti entrare noi Tristan ha fatto danno tutto il tempo gratuitamente Io mi sono stancato il mondo E' stato bello Questa è una delle poche soddisfazioni che si ha con i top laner Puoi tankarti il mondo e te ne sbatti altamente il capo Non so già che Allora Ionia Buono Si è messi bene Sosbro Ti voglio bene Si è messi bene Ah non sono riuscito a uscire il secondo minion Ma che cazzo di insieme hai buttato dentro quattro persone? Vabbè, sono io sopra, però puoi cliccarlo Pazzo Cassadin Forge onward Per ora bene, grazie Ho le pittone Grazie a Dio Zed è un ritardato Grazie a Dio Zed è un ritardato mentale Grazie a Dio Ionia shall not fall Bello lo smite Bello Sa smite Match wow Fuck Loll Rekt Ma il cazzo è smite Non avevo la W Ok tu 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 cacchi mi ha fottuto la lanterna morto mad good bad v era boh a funghi oh finalmente un game in cui sono stato fottutamente utile e posso dire di aver fatto il mio cazzo di dovere di gvp di gvp oh gfg finalmente un game decente ho fatto 80 danni meno di cazzo di o il